Wahey, ben ritrovo di Landry Link e un attuno su Kirby Star Allies! Oggi proviamo una nuova modalità e non sarà la scelta decisiva. La scorsa volta abbiamo provato Sei Tutti Noi Star Allies e ora facciamo i roi in una dimensione parallela. Voglio vedere di cosa si tratta. Non l'ho mai provata. Ah, quindi devo sconfiggere il boss finale? Ah, ok, ecco, andiamo. Non ho la minima idea. Ho letto le istruzioni ma ci ho capito poco. Wow. Ok. Potrei anche volare, eh. Però sai. Attenzione. Ma è tipo... posso fare anche... Ah, devo fare così, devo fare. Aha. E posso diventare... Lui oppure io assorbire la sua abilità. Non so come si fa a diventare amico a una persona che... Perché ve lo ripeto? Vai. Tiro, amici. Mamma mia. Poverino. Ah, ok, ora possiamo prendere anche un altro amico. Quello è mio. Perché abbiamo raccolto un cuore. Grande. Poverino, però. Ti è fatto malissimo. Va bene. Però... Ci sta, ci sta. Perfetto. Aspetta, a questo punto c'è qualcosa per caso? No. Eh, vabbè, controllo sempre, raga. Ormai lo sapete se mi seguite. Se mi avete visto su Kirby sapete che controllo tutto. Ok, calibriamo. Calibriamo in nulla, calibriamo. No, perché? E' un po' qua. Ah, niente, si è aperto. Ah, ok, perfetto. Ci ho pensato lì comunque. Ok. Ahah, ok. Figo. E diventare Waddle D. Boh. Mi convince poco. Dove raccogliere i cuori, mi diceva il gioco. Quindi diceva le istruzioni. Quindi raccolgo. C'è un mello, scusami. Sì, ecco, perfetto. Ti prendo. Wow. Mi guardo il D. Saper venire schiacciato malissimo. Poverano. Oddio, che è là? Wow. Ma sono incessanti? Scappa. Sì, vabbè, però, dovrebbe attivarla lui, eh. Non è per dire. Là non ci arrivo. Niente, a quella ci rinuncio. Ci vuole tutta quanta un'altra strategia e non riusciamo a metterla in atto. Mamma mia. Questi cosi del rotolo. Ok. Vai, one up. Ah, sì, qui ci si risettano anche le vite e poi non conta quelle che abbiamo preso nella storia normale. Bene, è giusto. Molto giusto, direi. Ah, King D.D.D. Ottimo. Questo è grande, quindi mi sa che c'è il boss qui. Ottimo. Vai. Elettrificami il martello. Boni. Martello l'ampo. Spendete. Sparapunzi. E spedere pensi. Scusami. Perché? Vabbè, non ho capito il senso di quel coso. Boh, facete voi. Ah, ma c'era il cuore prima, allora, pure. Perché non me ne sono accorto. Voglio vedere a cosa è collegato, perché ci fa fare tutta la banda. Ah, ok, per i cuori. Ah, va bene. Che cosa sei tu? È tornato. Nooo, persi per sempre. Ah, peccato. Uffa. Metal Knight! Ah, no, quindi il cuore qui è solo più grande in base al personaggio... In base all'importanza del personaggio. Ok, ci sta. Ci sta comunque. Ah, ci servirà lui, forse. Sì, se ti mettono un nemico è perché serve. Sempre. Ah, 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 ma stessi sta... Ah, stava abbassando il coso lì. Ah. È preso un colpo. Non capivo che cavolo stava succedendo. Beh, andiamo sopra, non perdiamo tempo. Si so che i cuori sono importanti, i recats, ma... Eh, devo anche andare avanti. Non so perché sto perdendo tempo ad ucciderlo, quando potrei semplicemente fare così. Ok, andiamo. Opla, ok. Non dico per un pelo, ma... Qui invece? Ora che si è abbassato del tutto... Ah, niente, si abbassa e basta. Ah. Qui invece non cambiamo un nemico, ma andiamo semplicemente attraverso la porta. Ah, ti metto al posto di... Bombi Bros. Perché a quanto pare Bombi Bros ha fatto il suo tempo. Eh, già. Ho fatto qualcosa con la chiave. Oddio, ragazzi, pensateci voi, pensateci. Non era importante la chiave, però vabbè. Se posso prenderla con molta facilità, tra l'altro. Diventiamo... Fiammello? No. Sì, Kirby Fiamma. Ah, siamo tornati con Kirby. Bene. Vabbè, vabbè, lasciamo perdere, dai. Povero Duke de Zack. Ponte amici! Oioi. Mmm, sarà tanto facile questa? Sì, effettivamente sì. Se quello non si apre... Ah, non si apre proprio. Attenzione! Ok, no, no. Aspetta, vai, 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 vai. Ma dai, l'ho saltato apposta! Non è che devo per forza aprirlo al Palazzo dei Sogni. Ehm... Ah, no, questo serviva solo perché se non avevi un amico, credo. Ma... Vabbè. Tutti così qua. Vabbè, non importa, ragazzi. Un altro ponte amici? Sì. Chissà se sarà più difficile stavolta. Ah, ho capito. No. È solo per il cuore, allora no, marrancio. Ah, ma non posso neanche riprovarci. Non ci posso e fallisco. Quindi tutto a primo tentativo. Ok. Aspetto i commenti di quelli che dicono che l'hanno fatto a primo tentativo. our... Allora. ... Grazie a tutti. Siamo praticamente al boss ora. Un altro woods? Un altro woods si chiama? Sul serio? Un altro woods? Un altro woods? Un altro woods? Un altro woods? Aia raga Ok ora dovrebbe essere leggermente più semplice Mi ha fregato due volte perché mi ha aspirato Porca zozza No Non dirmi che devo rifare tutto quanto da capo Ah no perfetto Adora scelgo un altro Un altro guerriero Mamma mia che è successo Non lo so ho ingoiato qualcosa E ho fatto bomba a caso Ah ok Ho ingoiato lo spino Quello che è cascato dall'albero Eh mo come ti faccio male io Ah mi ha andato solo male A posto è andato Vai lo rianimo così Vinciamo tutti insieme Wow cos'è In totale i cuori sono 30 E a quanto pare si deve fare a primo tentativo il ponte amici O meglio quello che ti dà da fare insomma Con Con la pedana Vabbè l'ho capito Bello come modalità Ah ci sono quattro dimensioni Forte Bello però Interessante come modalità La prossima volta proverò anche La prossima volta sarà la scelta decisiva E dovrebbe essere L'ultimo DDLC In realtà l'avrei già provato Con l'altro salvataggio Era molto carino Molto carino Qua è difficile eh L'ho provata al massimo Della difficoltà E ho perso A metà strada Credo Allora ogni modo Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito il video Vi ricordo che in descrizione C'è il link per Instagram e Discord E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre Nel prossimo video Bye bye